Ora ho tempo solo per la famiglia. Alessia Marcuzzi in un'intervista a Oggi spiega il suo no a condutture lo show di Canale 5 dedicato ai mondiali di calcio. Un no dovuto alla volontà di mettere i suoi figli al primo posto. Saro una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I pap dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola. Questa scelta forse non sar compresa da tutti. Una decisione presa con il cuore e con molta fatica. Peraltro la polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo. Diciamo che il destino e gli eventi hanno deciso per me. Il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, era infatti assente anche alle nozze del pap, proprio a causa della polmonite. Di lui, di Tommaso, Alessia aveva parlato anche a che tempo che fa rivelando di utilizzare un'app per monitorarne gli spostamenti, quando ha saputo che lo avevo geolocalizzato in diretta televisiva da Fabio si un po' incazzato. Poi mi ha sorriso e mi ha detto in romanaccio, mamma stai a esagerare. Ma tranquilla, sciallava. Ma Alessia parla anche della conduzione dell'Isola dei Famosi, stata l'isola P complessa dal punto di vista umano ma la P esaltante in termini di affetto del pubblico reale. E poi gli ascolti sono stati i P alti di sempre. Un'edizione in cui ci sono state anche accuse ai concorrenti di aver portato droga nel reality, per tutelarmi, ho centellinato i miei accessi ai social. Stato un toccasana per me. Certi attacchi non mi hanno stupito e ne ferito. Conosco il mio mondo e sapevo esattamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no. Antonio Ricci con striscia ha fatto il suo lavoro. NPN- Un gioco delle parti di cui ho sempre avuto consapevolezza, che conosco bene e che rispetto. Non ho svicolato, mi creda. Ho solo fatto una distinzione tra il piano morale e quello legale. Non me la sono sentita di infangare dei ragazzi di vent'anni che potevano essere miei figli. Ho solo fatto una distinzione tra i ragazzi di vent'anni che potevano essere miei figli. Ho solo fatto una distinzione tra i ragazzi.